Cinque persone andranno a processo per la morte di Christian Menin. Il bimbo di sei anni e mezzo di Limena ha negato lo scorso 9 agosto nella piscina Concaverde di San Pietro in Gu. La procura ha chiesto il processo per i due genitori del bambino, per la titolare della struttura e per due bagnini della sorveglianza dell'area dove ha negato il piccolo Christian. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 16 maggio. Secondo il pubblico ministero che ha rinviato a giudizio i cinque il bambino sarebbe sfuggito al controllo dei genitori e dei due bagnini. L'indagine ha ricostruito i momenti drammatici di quel giorno. I soccorsi sarebbero arrivati dopo cinque minuti, un tempo molto lungo nel quale Christian è rimasto sott'acqua. Per tutti e cinque l'accusa è di omicidio colposo. La tragedia del piccolo Christian è avvenuta il 9 agosto del 2021. Intorno all'ora di pranzo il bimbo si è allontanato dai genitori dicendo che andava a giocare con un amico e poi è stato visto dalla bagnina con la testa sott'acqua. Per l'accusa i genitori sapevano che il figlio non sapeva nuotare e lo hanno lasciato solo vicino alla piscina profonda 110 centimetri senza braccioli o salvagente. I due bagnini invece non avrebbero vigilato in modo accurato l'area e la titolare dell'impianto non avrebbe predisposto i segnali di pericolo profondità nello spazio d'acqua dove ha negato il bambino.